Correte! Su Kavalanga! Per le zucche questa è un'ottima annata, forse anche troppo buona. Ma che cosa ci si può fare con tutte queste zucche? Qualche idea? Non saprei, però posso chiedere ai miei follower! Hai mai qualche idea che sia tutta tua? Cosa vuoi dire con questo? Ogni volta non fai che chiedere aiuto ai Ruby Squeak! Dovresti fidarti più di te stessa e farti venire un'idea tua ogni tanto! Oh, beh, è facile! Io me ne faccio venire in mente una ora proprio! Ora ci siamo! L'idea è in arrivo tra un momento, ecco! Un'ottima idea, Sparky! Tutti i pony amano le carrozze di zucca! È solo che secondo la legge 927 di Mertime Bay non si possono fare veicoli usando le verdure! Che c'è? Non l'ho scritta io! Oh, queste carrozze di zucca sono super lussuose! Per fortuna, per Sparky sarà un gioco ritrasformare la carrozza in zucca! Ho trovato! Possiamo preparare delle torte con tutte queste zucche e organizzare una gara di mangiatorte! Oh, facile come bere dell'acqua! O mangiare una torta! Ad ogni modo, sarà delizioso! Che succede? Perché è diventato tutto zuccoso qui dentro? Ehi, là! C'è nessuno! Aiuto! I miei rubisqueak! Ogni volta non fai che chiedere aiuto ai rubisqueak! No, fermati! Posso farcela anche da sola! Zipsy sbaglia! Non è vero che ho sempre bisogno dei miei fan! Io sono perfettamente in grado di... Ed ecco le ultime, Izzy! Forza, bot McTort! Ora, inforniamo! Siamo al round finale della prima gara di mangiatorte di zucca di Mer Time Bay! Rimangono solamente due pony! Portate altre torte! Sono appena scornate le ultime torte della giornata! Non avrei mai pensato di partecipare a una gara di mangiatorte! E di sicuro non sotto forma di torta! Devo uscire da qui! Oh no! La crosta è spessa! Il primo pony a finire la torta vince! Siete pronti? Allora... Ha un'aria deliziosa! Mangiate! Josh! No! Fermo! Non mangiarmi! Che succede? Dove stanno correndo? Cosa? Ah! Una torta zombie! Una zombie torta! Zombie torta? Mosi, sei tu? Ah! Una zombie torta! Presto correte! Dovete! Dovete mettermi in salvo! Ah, Itch! Non andrai molto lontano lì sopra! Ah, sì! Hai ragione! Mettetemi in salvo! Tutto su! Eh, che succede! Tutto sul mio nome! Eh! Io ho già visto quella pony girl prima d'ora! Ruby! Sei tu! Oh! 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 Che entrata in scena! Sei rimasta bloccata nella torta! Perché non hai chiesto aiuto? Oh, beh, non saprei! Forse perché qualche pony pensa che io abbia sempre bisogno di chiedere aiuto! Oh! Oh! Ruby, scusami se ti ho fatto sentire così! Non volevo! Non fa niente! Come vedi, sono uscita da sola alla fine, senza chiedere aiuto a nessuno! Eh, eh! Sì, è vero! Nessun altro pony avrebbe potuto tirare fuori un'idea del genere! Eh, già! Le grandi idee sono la mia specialità! Ah, 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 ah! Eh... Finito! Eh... Io dichiaro Rufus il vincitore di Mertime Bay della prima... E ultima competizione di mangia torte! Eh? Però non è giusto! Perché la mia torte è scappata! No! No! Così! Cosa bene! Così, cosi! E non lo ami! E non lo ami! Così! Così!